Ancora ben trovati dalla redazione di Irans Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e V1 Variante. In A11, due chilometri di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria tra Chisino-Azianese e Capannuri verso Pisa. In direzione Firenze restano rallentamenti tra Prado Ovest e Bivo con l'A1. E arriviamo in A12, coda per lavori verso Rosignano tra raccordo Rosignano e allacciamento con l'Aurelia. Verso Livorno, un chilometro di coda a tratti tra nodo A12, raccordo Lucca-Viareggio e Bivo A12, raccordo A11, Firenze-Pisa per traffico. In Fibili restano rallentamenti per cantieri tra Empoli e Empoli-Est verso Firenze. Prima di salutarci per la cantieristica informiamo che è riaperta la SP302, asse viario fondamentale della Valle del Lamone tra Emilia-Romagna e Toscana. a seguito di interventi legati ai danni del maltempo del 16 e 17 maggio scorsi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!